Una settimana di esami in Toscana. Secondo giorno di lavoro per l'Aquila che domani mattina dopo l'allenamento sul campo di Centicolella partirà alla volta di Ponte d'Era per il turno infrasettimanale di campionato. Nella prima delle due sfide toscane in sequenza il tecnico Giovanni Paiari non potrà contare sul centrale difensivo Giordano Maccarrone. Ingiustamente espulso, le immagini parlano chiaro nel contatto con Bocalon che è valso il pareggio definitivo del Prato. La truppa aquilana resterà poi in Toscana nella località di Casciana Terme dove si allenerà per il resto della settimana in vista di domenica 21 quando sempre allo stadio di Ponte d'Era in programma la sfida al tutto cuoio dell'ex Gianmarco Ingrosso. C'è aria di riscossa in Casa Rosso Blu. I due punti in tre partite hanno lasciato segni nel morale e nella mente di tecnico e giocatori. Non è tempo di fasciarsi la testa però la squadra è super concentrata alla gara di dopodomani che si spera diventi un nuovo punto di partenza di un campionato per ora con molte ombre e poche luci.